Musica Cari amici Benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft Sucidiamo i zombie Si sventiamo l'apocalisse Dobbiamo cercare di arrivare perchè sappiamo Che stanno portando Gli hobbit a Isengard E ora dobbiamo andare a salvarli Esatto prima che sia troppo tardi Dato che stanno creando dei nuovi Esatto degli zombie kai Dobbiamo assolutamente Arrivare a distruggere Le loro miniere Grotte dove li stanno creando Ma che tenerezza Io è la spada di Isildur Si Dai no quella lì non è la spada di Isildur Isildur prende un frammento della spada Ma non è la sua Ma poi l'hanno riforgiata Si ho capito E allora è di Aragorn Alla fine è di Aragorn Dai vai Andate via zombacci vi devo distruggere Il vostro posto Il vostro covo Dai non coverete dopo Fanno le uova Guardali che uova nere che fanno Non vengono poi dalla terra Brava brava Toglimeli tutti di torno Olè Addio zombie E grazie a noi abbiamo sventato l'apocalisse Sì l'apocalisse Sì l'apocalisse zozzi Ci raccomandiamo di inviarci dei biglietti di ringraziamento in un qualunque posto vi volete Naturalmente Ci arrabbieremo molto con voi Esatto Ok andiamo Allora dobbiamo andare qui giù sotto Mi fai mangiare la mia angura marmarcia Poi sempre fame Sempre fame Ce l'avessi anche tu se avessi combattuto contro 18 zombie per volta Allora dato che non bisogna mai scavarsi di sotto E non bisogna neanche arrivare in questi punti Non ci Mai ti trovai morto Perché ti sei buttata giù Fermo Fermo Sto morendo Ho capito che stai morendo Come ce ne usciamo Dai fermo Se stai fermo non usciamo Sì Bravissimo Forza No via di giù Che sei il mio buco Trava il tuo albero Ok Mai scavarsi sotto E che potrebbe sempre capitare qualche brutta occasione Mentre facendo così vediamo che qui sotto si muore Uhuh No non si muore Puoi cadere giù anche tu se vuoi Arrivo Uhuh Ma no Avevi poca vita Lo sapevi che avevi pochi cuori Vero Ma è vero Non lo sapevi che avevi pochi cuori Volevi aspettare di riprenderteli Dai Allora come ci raggiungiamo Ti prendo ogni roba dai Sì ma come mi raggiungi Eh perché sei esattamente Eh qua giù nel fondo a sinistra nel di end Mi raggiungi tu Dove sei entrato esattamente Entra dal di end Da benissimo Vai abbiamo preso tutto Adesso sono pieno di punti esperienza Mi vieni ad accattare tu Ti vengo ad accattare Vai nel di end in basso a sinistra Sì ma come ci arrivi se non hai niente Eh ti aspetto Tu mi farai strada Perché sei molto gentile Sì grazie Grazie Molto gentile da parte tua Allora Ciao A sinistra Sei andata a destra Ah di là A sinistra Vedi di là È a sinistra Qual è a sinistra per te da qui A sinistra A sinistra Sì Sinistra A sinistra Mi hai detto di no No perché stai andando a destra Perché stai andando a destra Perché stai andando a destra Niente Buttati giù A destra Sulla destra Vai lì Vai buttati 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 Te l'ho detto che ti salvavi Visto massima fiducia Ok io tanto qui mi sembra un po' sotto tranquillo Non ci sono segni di cose pericolose Tipo la TNT Tipo la TNT Ok qui c'è uno spawner qui Cerca di raggiungermi in fretta Non guardare gli enderman Non so guardando Non so dove tu sei Sono sopra di te Sì Sì ti vedo Sopra Dove Aspetta dove Aspetta Dove sei Dove sei Tu non mi vedi Sto cercando di capire dove sei Eccoti Sì ti vedo di che zampetti Sì ma siamo proprio sopra uno spawner Sì Che tenerezza Di nuovo È possibile Sono le TNT Complimenti Ma non ce ne ha già uno di creeper qua Sì Ci sono due Complimenti per essere arrivata fin qui Mi chiedo come tu abbia fatto Non lo so amore Cos'è Uno spawner Blocca 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 Stai di creeper Ci siamo proprio nel posto più scomodo in assoluto Naturalmente Aspetta Aspetta Ti raggiungo Un attimo Non so come tu abbia fatto Veramente non ti riconosco Sei tu Sì Mamma mia Forse Forse Allora dai Diamo che ti raggiungo Tutto Tutto Ti devo salire Ci siamo quasi Incredibile Abbiamo recuperato Kiria Senza bisogno di TP Cose strane Anche se D'ora in poi Nelle prossime serie Metteremo il TP Fondamentale Che sennò è terribile Alla fine l'importante È registrare Decentemente Oh Finalmente ci si rivede Buongiorno Sono mancato? Sì Ah meno male Allora dai dammi la robata Allora Allora tieni Ti do questo Questo No Questo La spada Il piccone E la Cos'altro è tuo? Il cibo Il cibo Sì Anche questo cibo Basta Ti do ancora qualcos'altro Sennò sono pieno La 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 Ok La e là Vai Più o meno Hai tutto quello che ti serve? Più o meno Ma sia anche le frecce Ti do Dai Anche l'oro Anche l'oro Pigliattuto Dai aiutami Aiutami Guarda Credevo che ormai Ti avrete perso Dove continuare la puntata da sola Ma che cittiveria Nella prima volta Che c'era da arrivare qui È stata anche fortunata Che non c'erano problemi Con Eh Come si chiama Con i picconi Siamo cittad'arrivare Anche senza picconi E Andiamo a cercare Di là apparentemente Non ce n'è più TNT Però TNT TNT Vai prendiamo tutto TNT C'è TNT C'è Tranquilla Vedati che c'è Ah ora si Ora si Quando la vedi troppo tardi Qualcuno ci ha detto La TNT che cosa serve La TNT serve Per cadere di sotto A farti perdere tutto Praticamente Se Guarda dove sei Praticamente Se È uno spawn di creeper E Esplode un creeper Voi perdete Se non l'avete già preso A dire che Morite facilmente Con la TNT Però Probabilmente Perdete anche le medaglie Quindi è meglio Toglierla Se la trovate Bene Allora cerchiamo di liberare Un attimo questa zona In modo da trovare Dove Prendere il chest Proviamo Creeper Schifosi Creeper Bene 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 Ormai è un tormentone Dell'autunno No Enderman No Non guardarci Ok ho paura che ci piova A testa un creeper Non vedevo l'ora Allora Proviamo di qui Sì Sì Ok No Enderman Ma chi t'ha guardato La mia death Io Ti odio Il chest è curativo Scappa 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 Non fanno esplodere Non fanno esplodere Cos'è ancora esplodere Il chest è ancora Integro Dobbiamo recuperarlo Prima Che sia la fine del mondo Dobbiamo prenderlo subito Vai via No Non lo so No sta prendendo un altro Sta prendendo un altro Vai via Scappa scappa Sei piena Sei piena di creeper Piena Pienissima Piena Piena È ancora vivo Aspetta mi stanno inseguendo Dimmi che c'è ancora Basta la medaglia Posso sopportare di perdere il resto Ma la medaglia va presa Sono ancora Aspetta ce l'hanno con me in questo momento Bene Dai Ci sono Dimmi che c'è ancora Dimmi che c'è ancora Sì C'è ancora C'è Ancora Il chest Dobbiamo cercare di recuperarlo in fretta Proverò passare dall'alto Perché ogni dungeon deve complicarsi all'infinito Lì c'è Perché sono dungeon amore No Sono troppi Vedi se riesci a prenderli tu Menti te li distrago io Ce la fai mica Eh Bella Bella Ma andrime Non state proprio lì Non vedo Aia Aspetta Ce la fai Ci si prova Ce la fai di arrivarci Ho paura No Stai arrivando Stai arrivando Stai arrivando Adosso Scappa 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 Che no Chi ti ha guardato Chi ti ha guardato Non morire Chi ti ha guardato Chi ti ha guardato Chi ti ha guardato Mangia subito Io vi odio Io vi odio tutti Tutti Enderman Tutti Non vi guarda nessuno Fate schifo No Scappa Basta Che mi ha guardato Occhio Stiamo rischiando tantissimo per quel chest Stiamo rischiando troppo Vai via Cosa verde stampettante Stiamo rischiando troppo per quel chest Non possiamo rischiare così tanto Stai lontana da lì Dobbiamo trovare un sistema per arrivarci Ma per ora Stiamo facendo dei disastri troppo grandi Allora Basta Fanno altro che Poveri creeper Sì io lo so Allora Intanto blocchiamo un attimo lì Togliamo qui sotto È terribile sto punto No Occhio Non è successo niente No Mi ha distrutto la scala con cui ero salita Ecco Occhio Mi hanno distrutto definitivamente la scala Con cui ero salita Qui ce n'è un altro No No Ma cosa fate esplodere sempre No 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 Non per pirla Sta attenta No No I chest I chest si stancò Si stancò I chest Via 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 Viva Un altro enderman Dobbiamo Basta Ma quanti ce ne sono La sponda No No Ma sei buonato Sono morto Ci serve per prendere quella dannatissima cosa No 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 La medaglia la vedo La vedo C'è un creeper davanti però Scappa La miseria vada Scappa Scappa Stai lontana Non devono esplodere Non avvicinate assolutamente A quel posto Si ma il creeper si sta avvicinando a me Non importa Tu stai lontana Stai lontana Mettiti nel Rifu No Accidenti Rifugiati Nel Nel buco In quello In quello In cui siamo entratti Rifugiati Aspetta Voglio quella medaglia No 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 E tu stai lontana Si esplode la fine Vieni qua creeperino Vieni nella mamma Ce la dovrai fare Ce la dovrai fare Ce la faccio 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 Hai preso Scappa Quale medaglia Quale Non è vero Che ti ho guardato Smettila di credere Le cose che non sono vere La roba La roba Ho preso la medaglia Io ho recuperato un po' di cose Quale medaglia Quale Zombie Bene E devo prendere l'altra Adesso Bene Non ti ho guardato Ok Sto prima Sto prima Ho mezzo cuore Ho mezzo cuore Toglimeli di addosso Vieni qui Vieni qui Qui Perché Perché Ok Ho recuperato praticamente Tutto Però Hai tu la medaglia Meno male Abbiamo recuperato addirittura Anche il diamond pickaxe E quindi penso che Più o meno Ho recuperato quasi tutto Sì Anche Chris Scampa Basta Toglietemi di torno Toglietemi di torna Via Via T'ho colpito io Grazie a voi Che è molto bello Tutti si colpire Occhio Occhio Scappa Dobbiamo arrivare lassù Ma come Non lo so come Non lo so come Ma dobbiamo bloccare Intanto il passaggio Che ne cadono ovviamente Troppi Ok Non ti restano lì Ti salta al chest Bene No Sembra un'ottima strategia No Ci voglio uscire Ok Ok No ce n'è uno Ce n'è uno Vai via Attenza Attenza 1,2,3,4,5,12,12,12,12 Milla creeper Quanti Avevo detto Vero Basta Chiudili 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 Non ci credo Non ci credo Si è andata un apocalisse Un apocalisse Un apocalisse Creeper Ma non è umana Questa cosa Non è umano Perché muori Ho autocolpito Che disastro Che disastro Senti Mi sa che ci conviene Passare da un'altra zona Per tornare a casa Non credo No Liberai dal passaggio Aspetta Perché È sovrumana Ormai è persa questa zona Dobbiamo abbandonarla È come nei film Ormai questa zona È stata compromessa È compromessa Dobbiamo assolutamente Salvare il salvabile E andare via Con le medaglie È l'unica cosa Che possiamo Permetterci di fare In questo momento Ma si esplodi tutto È stata Veramente Una battaglia All'ultimo sangue E siamo contenti Di esserci riuscita Di esserci riusciti Davvero Che battaglia No Cosa hai fatto passare Perché Volevo chiederlo meglio Il passaggio Si vede come l'hai chiuso bene Effettivamente Benissimo Andaman Via Ma dove l'ha visto Che l'ho guardato Dove Dove c'è la faccia Nel Nel braccio E che diamine Ora è chiuso meglio Ah ora si Mamma Tra l'altro c'è un altro Spawner laggiù Ma io con tutte queste medaglie Ho una paura Mata ad andarci Andiamo un attimo un po' Eh Quattro Non l'ingicaci tu la mia Allora Io direi che Consigliamo adesso Adesso con calma Di ritornare su Per evitare tutto Altra fila Ma passiamo di qua E poi una volta appoggiata La roba Torneremo Adesso c'è quell'altro Spawner Che ho visto Della netherrack Forse è di Zombie Pigment Non lo so Può darsi Torniamo su Appoggiamo la roba E poi vediamo Un pochino Che disastro Che Disastro Grazie a tutti E Alla prossima Con Gli Tornere Ciao Ciao